Fabio Perna ha ancora oggi una bellissima prestazione con un bellissimo gol Sì, è andata bene, oggi mi sentivo molto bene, stavo bene, secondo me ha fatto un'attima gara come l'ha fatta tutta la squadra e abbiamo messo in difficoltà una buona squadra e il risultato merita tantissimo Dal punto di vista del gioco abbiamo visto solo la Gianna, sia nel primo che nel secondo tempo avete andato bene la palla, avete fatto girare come il resto nelle corde di questa squadra Sì, sì, come sappiamo fare, noi diciamo che quando ci mettiamo a giocare, colleghiamo tutti insieme teniamo bene le posizioni e siamo molto bravi in questo Sì, abbiamo fatto una gara, tutto sommato, una buona gara Abbiamo soltanto solo verso la fine del primo tempo, abbiamo rischiato qualcosina che potevamo evitare, però bene, in altri minuti ci può stare non in più il secondo tempo, abbiamo gestito molto meglio la palla e poi abbiamo ben dilagato con il 2-3-0 Zero tiri in porte subiti, insomma lo dice tutto sulla vostra prestazione No, no, sì, sì, poi la cosa buona è non aver preso gol sono già tre partite che non riprendiamo, che era un po' il problema che avevamo un po' all'inizio e quindi dobbiamo andare avanti per questa strada adesso avremo il derby e dobbiamo cercare di farlo bene anche così durante il giorno 10 punti su 12 nell'ultima quattro partite diciamo che abbiamo ritrovato la giana che conoscevamo a fine del scorso campionato Sì, sì, dai, diciamo che abbiamo ritrovato il buon gioco e stanno venendo anche i risultati perché il buon gioco c'era anche secondo me nelle partite tipo Alessandra, Livorno dove comunque aveva fatto un punto e anche l'unica è stata Olbia che abbiamo fatto, abbiamo un po' sbagliato però nel viaggio secondo me la prestazione c'era mancavano un po' i risultati e vincere, aiuta a vincere, secondo me stiamo ritornando fuori non dobbiamo montarci la testa né nulla perché è la stessa comunità che stiamo avendo in queste ultime partite Ecco, guardando a livello personale Fabio e che ti dobbiamo dire? 6 gol, tanta generosità, ammazza te, ne vogliamo 11 perle Sto andando un periodo che sta andando molto bene siamo a 6 gol, al più 1, 2 fatti in Coppa, siamo a 7 quindi sono molto contento un periodo che sta andando bene quindi vado bene io, stando migliore a squadra non posso chiedervi meglio complimenti e grazie Fabio Grazie mille Grazie mille